Il problema della movida molesta, alla quale questure e carabinieri hanno messo un po' a un freno con numerosi arresti, ha prodato nei giorni scorsi anche in Commissione Comunale quella delle politiche sociali, presieduta da Fabio Frullo e dal Vicepresidente Katia Persichetti. Su sollecitazione del passo possibile il Comune ha voluto affrontare questa tematica da diverse angolazioni. Il problema c'è ed è reale, ma ora c'è la volontà di cercare di contemperare le esigenze di tutti, residenti, commercianti e giovani, cosa che finora evidentemente non è stata fatta. Del resto esistono dei regolamenti e delle norme, basta applicarle e fare controlli per chi non le rispetta. Queste situazioni possono essere un effetto di cause, molteplici cause, fra cui anche un centro storico sostanzialmente abbandonato a se stesso, il cui unico sviluppo da un punto di vista sociale ed economico, pensato da questa amministrazione, è stato quello della disseminazione di locali per la somministrazione di bevande alcoliche e anche locali per mangiare, non dico di no, però sostanzialmente solo locali. Un centro storico che si è sviluppato, si sviluppa sostanzialmente su due strade, in croce, nel senso dalla Fontana Minosa alla piazza e dai quattro cantoni a Piazza Palazzo. Al di fuori di questa croce in realtà si trovano cantieri, si trovano messe in sicurezza, si trovano case finite ma non riabitate, per cui ci si chiede come mai gli ingenti finanziamenti pubblici che sono stati stanziati sulla città dell'Aquila con la finalità di ripopolare la città e quindi il centro, perché ogni città si ravvede, è rappresentata dal suo centro storico, in realtà questo centro sia rimasto non attraente e quindi non ripopolato dai suoi cittadini vecchi e eventualmente anche da nuovi cittadini. Il Comune dovrebbe far rispettare le regole esistenti, perché alcune regole ci sono ma vengono regolarmente disattese, sono state disattese, e agire positivamente con regole nuove, quali il piano del rumore, il piano del commercio, il piano delle opere d'arte. Quello che la nostra associazione chiede all'amministrazione, perché riteniamo che il nostro interlocutore sia esclusivamente il Comune, è di far rispettare le regole esistenti e adottare altre regole, perché la città ed il centro possano effettivamente rinascere, perché ad oggi questa non può definirsi rinascita.